Ciao a tutti ragazzi bentornati qui da BBC Games, ci siamo con For Honor, siamo in Schermaya e niente, sono di Notorietà 30 con equipaggiamento 144. Se volete sapere, se siete curiosi, che tipo di equipaggiamento c'ho, fatemelo sapere nei commenti e ve lo dirò. Vi farò un video dove nel prossimo video ci inserirò il mio equipaggiamento. E niente, ora facciamo fuori un po' di giocatori e si va. Ora aspettiamo che ritornino, perfetto, eccoli qua. E in dando, iniziamo. A posto, fuori uno, e andiamo a ammazzare a quest'altro. Aie, e chiappa c'è. Annaggia per poco. Dai che questo è morto, a posto. Ok, andiamo a salvare il nostro amico. Dai, ok, perfetto. E adesso aspettiamoli di nuovo. Tu centurione, vatti a curare prima che ci rimani secco. Niente, non si vuole andare a curare, vuole andare a ammazzare a quest'altro. Cioè, come fai? Non ci vuole niente a ammazzarti se stai con due tacche di vita. Guarda quello che culo con la catapulta. Aiuto, no! Ehi, a posto. Mi hanno beccato. A posto. E vabbè ragazzi. Il mio motto è questo. Devo morire per uccidere. Se non muoio, non mi incazzo. Allora. Dove cacchio siete? Io ragazzi, su duello, eliminazione, mischia, oh, non me ce trovo. Non riesco a giocarci bene. Mi trovo troppo bene o qui su dominio o qua su schermaglia. Non lo so perché. Aglie! Guarda ragazzi, c'è... I Kensei, madonna! Ogni tanto mi fregano. Anche sti cazzo centurioni che cerco di devi al colpo, ma niente. Oh, ma l'ho sempre troppo tardi. Scusate ragazzi, se ogni tanto spammo l'attaccazzona. Però, ragazzi... Salva la vita. Qui stiamo in guerra. Bisogna vincere. Dopo, se si perde... La gente si sente grande. Prende il giro. E quindi... Se si bisogna spammare, si spamma. Per vincere bisogna fare qualsiasi cosa. Guarda questo come spamma. E poi, ragazzi... Uno spamma. Uno parte... Loroci c'ha quelle de mosse. Non è che ce n'ha... Abyssafe come le... Come gli altri giocatori. Come gli altri personaggi, scusate. Le mosse sono quelle. Ce n'hanno 10. Si e no. Se manco ci arrivi... Non lo so manco se ci arriviamo. Non ho guardato bene. Mamma mia. Porca troia. Mamma mia. A metà vita stava. Cazzo. Gli ho fatto proprio male. Quello secondo me ha fatto la stessa... Avevo avuto la stessa impressione. Dice... Eh, la madrosca sto rocci. E poi, ragazzi... L'equipaggiamento che c'ho... Eh... Diciamo che... Ho fatto il cambio aspetto. Capito, ragazzi? Non è che... L'equipaggiamento... Quello che c'ho addosso... È identico... È identico a quello lì... Dell'equipaggiamento... Della... Della statistica del... Equipaggiamento. Ecco. Vedi? E ci ha fatto fuori con la catapulta. Vedi? Voi ragazzi odiate... Chi spamma e io odio chi spara sti cazzo de' bombe. E che stiamo a confiuti, ragazzuoli. Eh... Devo sparate... E io spammo. Parte spammo. E... Quella è la mossa, ragazzuoli. È l'unica mossa che è un po' difficile che te la potevi ha... E poi ti leva un bel po' di vita a certe volte. Comunque adesso... Adesso la mia squadra cerco di radunarli. Li chiamo un po' anche se andiamo un po' a vuoto che non riesco a trovarli. Eccoli qua. Come al solito... Come al solito... Mi parte il tasto. Facciamo fuori questo perché... Sto viking è pericoloso. Aia. Aia. Ehi. A posto. Cosa cazzi? Aia. Dai. Oh. Dai. Dai che lo mazzamo. Tu dove vai? Ini qua. Tu sei morto. Stai in uno sputo di vita. Sei venuto pure vicino a me. Eh... Te pareva ste connessioni? A posto. E ci siamo salvati il culo un'altra volta. Ok. Ok. Manchia. A posto. Andiamo. Andiamoci a fare a quest'altro. Con due tacche di vita non so per quanto campo eh ragazzoli. A posto. Andiamo pure a vuoto. Dai. Ok adesso. Perfetto. Ah che cazzo? Ma come... Vabbè. Aiuto. Ah. Ah. Aia. Mamma mia. Dai. Te pareva che ne è arrivato un altro? Giusto giusto in tempo eh. Siete arrivati. E vabbè. E questa è Ita. Dai dai che... Non è che c'è... Non è che c'è rimasto tanto eh. Qui tra un po' andiamo in rotta. Aiuto. Madonna. Aiuto. Aiuto. Madonna. Quante botte. Mi sta andando a... Aiaia. Oh. Che puttana. Se si incazza. Se si incazza. John. Ve fa fuori. Vieni qua. Dove vai tu? Dove vai? Dai che c'è rimasto poco. Solo due ne è rimasti. Via. E che palle. Tu che ti guaglia sempre a curare. Mannaggia. Tu che pari. Senza volerlo. Dai. Ok. Perfetto. È rimasto solo lui. E che palle. Che vado sempre a vuoto. Aiaia. Culo. Adesso io non so se... Se chiappava pure a me. Oppure stavamo in rotta. Adesso non mi ricordo. Perché qui o guardi o a parte... O guardi o combatti. Ok ragazzi. Il video finisce qui. E se spero che vi è piaciuto. Lasciate spolliciate. Iscrivete se non l'avete ancora fatto. Per seguire altri video. E volevo ricordarvi. Che ho. Ragazzi. Ho 470 video. Se vi va di guardare. Anche quelli precedenti. Anche quelli sono belli. E poi c'è una playlist. Dove faccio. Videogiochi. In stile cinematografico. Quindi il gioco. Sono CTA. Che sarebbe l'edito Rockstar. E poi c'è sta anche il Total War. Sia normale. Il Total War normale. E sia il Shogun. Quindi vi invito a guardarlo. E sono sicuro che vi piacerà. E niente. Noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie.